E adesso tocca la magnifica coppia che in tanti invidiano all'Arezzo, il tandem di mercato Giovannini-Cutolo è già al lavoro e dè in procinto di chiudere i primi acquisti. Con il Gubbio da tempo è stato aperto il contatto per l'esterno Corsinelli, il giocatore Stato con Indiani e Giovannini a Pontedera. Giocatore di lotta e di governo, sembra essere il profilo giusto per le esigenze dell'Arezzo. Resta da capire se nell'operazione verrà inserito zona. Nell'ultimo ora è spuntata la voce di una operazione con il Sestri Levante per lo scambio tra Poggesi che andrebbe in Liguria con l'arrivo ad Arezzo dell'attaccante Forte. Giocatore cresciuto nel Milan, Forte ha militato anche Pistoglia, Lecco, Cavari Tirreni, Mestre, Casale e Legnano. In questa stagione ha segnato sei reti, il suo arrivo potrebbe chiudere le porte a quello di Pinsauti avvicinato nei giorni scorsi alla formazione Amaranto.